Buongiorno da Edo, dovrei dire forse buonasera, visto che sto registrando a ora di pranzo e comunque questo video uscirà nel pomeriggio perché stamattina ero impegnato, però poi mi sono detto, vabbè, ci sono delle cosette interessanti da dire, perché perdere questa occasione che domani chissà se ci saremo, tanto vale fare una puntatina magari un po' veloce, magari un po' raffazzonata, però giusto per dare qualche notizia che mi sembra importante da dare. E prima di darvi la notizia, perché parleremo di AWS e di cosa ha presentato di ciccioso al re-invent a Las Vegas, una cosa abbastanza curiosa che mi è passata così sotto il naso qualche giorno fa, voi conoscete Prittier, immagino di sì, comunque tutti quelli che lavorano con JavaScript conosceranno, Prittier è un code formatter, scritto in JavaScript appunto, ed è un progetto open source anche piuttosto grande. Qual è il problema di Prittier, secondo Prittier stesso, che è l'unico code formatter presente in questo mercato, quindi non hanno competizione. Cosa hanno fatto? Hanno creato un programma, un premio, hanno istituito un premio di 10.000 dollari per chi avesse implementato un'alternativa a Prittier compatibile 100% con Prittier, cioè l'idea è di creare un'alternativa a Prittier scritta in Rust che copra il 95% dei test di Prittier, quindi che praticamente risponda alla quasi totalità delle funzionalità di Prittier stesso. Benissimo, quando ha sentito questa idea, Guillermo Rauch, CEO di Vercell, ha raddoppiato la cifra, quindi apportandola a 20.000 dollari, dopodiché sono intervenuti anche i ragazzi di Napi.rs, che è un framework per creare dei bindings tra Rust e Node, quindi per esporre funzionalità, funzioni Rust in Node, ci hanno aggiunto altri 2.500 dollari, quindi il totale di questo premio era di 22.500 dollari, è stato per l'appunto vinto. Era stato istituito il 9 novembre, il 27 novembre è stato vinto da chi? Da Biome Project, o Biome, Biome, non lo so. Comunque, questo Biome Project che ha creato un'alternativa Rust 100% compatibile con Prittier, però la cosa croccante, più che altro, è il fatto che Prittier abbia creato questa iniziativa, no? Cioè, pensate all'idea che abbiano finanziato di fatto un competitor, la creazione di un competitor, perché siamo nel mercato open source e quindi non è tanto importante essere i monopolisti, l'importante è fare le cose bene e per fare le cose bene Rust ha pensato, scusate, Prittier ha pensato, che la cosa migliore fosse di avere un competitor, così che competendo sulle funzionalità si vada più veloce a scoprire idealmente delle funzionalità nuove da inserire, ma anche a correggere quelle esistenti, fixare dei bug, eccetera. Questa cosa sta già succedendo, infatti, perché Fabio Spampinato, che tra l'altro è italiano e orgogliosamente, insomma, ringraziamo anche per il lavoro di contribuzione che fa in Prittier, ha già trovato dei modi per velocizzare alcune operazioni. Quindi, vedete, sta già dando i suoi frutti, questa cosa meravigliosa del fatto che Prittier vada a finanziare la creazione di un suo competitor, perché, se no, essere monopolisti è un problema, perché si va troppo lenti. Questa cosa è meravigliosa. Adesso andiamo direttamente alla prima news del giorno, forse anche l'unica. No, ce n'ho un'altra chicchetta. Vabbè, un paio di notizie. Questa, però, è decisamente più importante e prenderà la gran parte della puntatura. Allora, partiamo proprio da questa, che è la notizia fondamentale, principale, che è il lancio da parte di AWS di Amazon Q, o Q, proprio la lettera Q, che si parla sempre di AI, quindi è un assistente AI, ma non c'entra niente con QSTAR, che è quella roba che ha lanciato invece OpenAI, non lanciato, è quel progetto OpenAI, a quanto pare un po' oscuro, che però sarebbe quasi a livello di una intelligenza generale, e quindi ha spaventato un po' OpenAI, tanto da costringere a licenziare il suo signore. Abbiamo parlato qualche giorno fa. Vabbè, quello era QSTAR. Questo invece è Q, ed è un assistente, come ce lo immaginiamo, un chatbot, ma poi integrato, insomma, un po' in tutti i servizi di AWS. Insomma, per parlarvi di questo Q presentato appunto al re-invent, parto da The Stack, un articolo di The Stack. Vediamo un po' che ci dice. Allora, Amazon ha annunciato il lancio di Amazon Q, che è un assistente di Generative AI, che può essere collegato con vari servizi enterprise abbastanza popolari, come applicazioni o repositori di documenti, tra i quali citiamo S3, Salesforce, Google Drive, Microsoft 365, Gmail, eccetera, eccetera. Cioè, in pratica, voi allenate questo assistente, dandogli in pasto i vostri documenti privati, i ripositori dei vostri documenti privati. Quindi, ha un assistente personalizzato e fatto su misura con la conoscenza che avete creato nella vostra azienda, con i documenti creati nell'azienda. Quindi, è un po', come giustamente poi cita anche The Stack, come sta facendo Microsoft con Copilot. Quindi, proseguido all'articolo. L'assistente AI permette agli utenti di fare delle domande in linguaggio naturale per, appunto, prendere qualunque dato dalle applicazioni di AWS, comunque in qualunque servizio di AWS. E, dice, la press release è stato allenato su 17 anni di esempi in alta qualità di AWS e di documentazione per guidare, assistere in ogni processo della costruzione, deploy e mantenimento di operazioni applicative in AWS. Quindi, attualmente qua si sta parlando dell'assistente, sempre powered by Q, della creazione di applicazioni in AWS. Quindi, gli utenti potranno accedere ad Amazon Q attraverso la console di AWS, attraverso la documentazione, oppure il sito web, o attraverso gli IDE, gli editor, quelli che supportano Amazon Code Whisperer, quindi per esempio Code, oppure attraverso AWS Chatbot in alcune chat, come per esempio Slack o Microsoft Teams. Ecco, ci sarà il bot di AWS Q per interagire, ecco, con questo bot. E, tra l'altro, questo rispetterà i permessi che hanno gli utenti che parlano con il bot. Quindi, rispetterà identità, ruoli e permessi degli utenti che interagiranno. E si potrà connettere a servizi esterni con SAML 2. Quindi, tutti quelli che supportano SAML 2.0, come Octa, come Azure AD e Ping, potranno essere compatibili per essere integrati con Amazon Q. Inoltre, Q sarà integrato dentro Amazon Connect, che è il servizio di Amazon per i call center, quindi fondamentalmente sarà disponibile anche per i call center che hanno Amazon Connect. Bene, la versione stand-alone di Amazon Q sarà in preview e disponibile soltanto negli Stati Uniti, nelle region East e West degli Stati Uniti, mentre invece la disponibilità su Amazon Connect includerà anche Asia Pacific su Sydney e Tokyo e Europe su Francoforte e London. Quindi, gli amministratori di un'istanza Amazon Q potranno configurarlo per rispondere soltanto basandosi strettamente sui documenti proprio dell'azienda, quindi la base di conoscenze che un'azienda gli dà a disposizione, oppure permettergli di sfruttare anche la conoscenza esterna, quindi di servizi esterni, qualora magari la risposta a una domanda non fosse trovata nel database di documenti che ha a disposizione il modello. Inoltre, sempre gli amministratori potranno configurare i topic che sono permessi o che non sono permessi e anche le parole singole permesse e non permesse, quindi proprio un fine tuning totale del chatbot. Inoltre, si potrà anche abilitare o disabilitare la feature di upload di file. Ora passiamo al prezzo. Inoltre, il costo di questa soluzione parte da 20 dollari al mese per utente, quindi è un pressing model basato proprio sugli utenti, sul numero di utenti che si va ad aggiungere. E bisogna mettere 5 dollari in più per avere anche la parte builder, che sarebbe la parte che si aggiunge a Code Whisperer, quindi quella che si integra in Code Whisperer. Quindi se volete aggiungere anche l'integrazione di Code Assistant, ecco, sono 5 dollari in più. L'articolo si chiude anche con una novità su Bedrock, che è l'AI service di Amazon, che diciamo che include vari modelli, insomma, di AI, tipo LAMA, di Meta, oppure Cohere Command Lite, oppure quelli di Amazon stessa, come Titan Text Lite e Titan Text Express. Ecco, questi potranno essere ancora di più personalizzati creando dei dataset labeled, quindi apponendo delle proprie label ai dataset per incrementare ancora di più l'accuratezza rispetto alle proprie necessità di business. Quindi gli output di questi dataset saranno ancora più personalizzati sui propri business. E come fa Bedrock, che praticamente crea una copia dei dataset di scelta, per esempio di LAMA 2, e questa copia sarà allenata con i dati labeled che gli date in pasto e sarà accessibile solamente a voi, quindi non è accessibile dall'esterno. Questa è un po' un'aggiunta che hanno presentato riguardo a Bedrock. Qui, insomma, Amazon Q, nuovo attore sul mercato delle AI generative. Per completare un po' il quadro, vado anche sul sito di Amazon, sul blog, insomma, delle news di Amazon, che naturalmente presentano Q, e vado a vedere, per esempio, l'interfaccia. L'interfaccia di Q, questo è il post che si intitola Introducing Amazon Q a New Generative AI Powered Assistant. Questo è il titolo del post sul blog di AWS. E questa è l'interfaccia, per chi sta guardando, l'interfaccia di Amazon Q come chatbot, cioè quindi come proprio la chat, che suonerà molto familiare, perché è praticamente una copia di quella di chat GPT. Quindi ormai dobbiamo abituarci, gli assistenti AI hanno tutti la stessa interfaccia, potrebbe mettere anche Bard a questa interfaccia qua, no? Pare che, io inizialmente quando l'avevo vista mi sembrava un pochino poveretta, no? Quella interfaccia sembrava quasi, probabilmente non disegnata da uno UI designer, ma da uno sviluppatore. E invece quanto pare funziona, piace, e quindi tutti riprendono quella stessa lì. E anche Amazon Q ha deciso di riprendere quell'interfaccia. Naturalmente c'è qualche cosa personalizzata, però fondamentalmente è lo stesso. Il prompt sta in basso, e poi sopra c'è la sidebar con la history sulla sinistra, e insomma qualche altra cosa. Poi inoltre ci sono i menu per personalizzarlo, per creare i propri servizi su misura. Se il chatbot trova delle risposte nei vostri documenti, vi dà le sorgenti, quindi vi dice in quale documento, per esempio PDF fa l'esempio, in quale documento ha trovato quella sorgente, quindi insomma vi dà le sorgenti, come vi aspettereste, come fanno anche Bing, come fanno gli altri. E poi sempre sul blog, ti dà le istruzioni per creare invece un servizio di Q dentro la propria area console su AWS, quindi crearlo e integrarlo con i servizi di AWS. E una volta creato e integrato, si possono connettere sorgenti esterne. Quindi una volta scelto, una volta creata questa applicazione Q, e scelto qual è il dataset privato su cui viene allenato, gli si può connettere una data source. E questi data source sono, come vedete, i più disparati, da S3 a Adobe, Experience Manager a Dropbox, a GitHub, Gmail, Jira, c'è anche Drupal, è incredibile. Insomma ci sono un sacco di servizi, di provider, di documenti, a cui potete connettere Q per fargli leggere anche queste risposte anche da lì. Oltre a subito di aggiungere dei plugin, ci sono delle integrazioni ulteriori, qui vedo per esempio Salesforce o Zendesk, che ecco si possono aggiungere anche dei plugin. Infine, in questo post, si va a vedere anche un po' l'integrazione con Slack, quindi il chat bot Amazon Q dentro una chat di Slack, risponde anche lì. Questa era la parte business marketing di Q, c'è invece anche la parte sviluppatore, la parte developer. Quindi in un altro post, sempre su AWS, sul blog di AWS, che si intitola Amazon Q brings generative AI-powered assistance to IT pros and developers, questo è quello che invece parla ai developers, proprio fa vedere tutte le cose che si possono fare con Q rivolte ai developers. E quindi c'è il chat bot integrato con il plugin in Code Whisperer, un po' come succede oggi con la copilot chat, in GitHub Copilot, ecco qua, c'è la chat, che tra l'altro funziona più o meno allo stesso modo e anche lo stesso comando con lo slash per impartirgli i propri comandi, e che cosa può fare? Fondamentalmente può generare applicazioni oppure spiegare il codice, cosa sta facendo. Inoltre, c'è anche un'integrazione direttamente dentro la console, e quindi dalla console, si può andare ad aprire, quindi dalla AWS console, si può andare ad aprire Q e fargli delle domande, fargli delle domande per esempio su come configurare dei servizi, come mai dei servizi non stanno funzionando come ci aspettiamo che funzionino, se ci sono problemi di connettività, di network, quali sono le best practice per creare magari un servizio all'interno di AWS, ecco lui, essendo appunto allenato su tutta la knowledge base di AWS, conosce tutte queste risposte, non solo, è anche in grado di spiegare come mai alcuni servizi non funzionano, per esempio, c'è una dimostrazione qua, nei log di un servizio AWS, ci sono degli errori, ecco questi errori possono essere direttamente dalla console, passati ad Amazon Q che li analizza, spiega come mai ci sono gli errori, e si possono anche chiedere delle soluzioni, che a volte sono soluzioni che banalmente lui riesce a riconoscere, ecco vi dà la soluzione direttamente all'errore, con gli step anche, step by step, per andare a fixare quel problema, che è piuttosto figo, inoltre, sui problemi di connettività, per esempio ai servizi AWS, per esempio, non riesci a connetterti in SSH all'istanza EC2, ecco in quel caso, lui è in grado di interagire con dei servizi, per esempio, il VPC, Receability Analyzer, lui è in grado di connettersi con questi servizi, e capire come mai, non riesce a fare quello che vuoi fare, non riesci per esempio a connetterti in SSH, a un'istanza EC2, e magari perché, la porta non è aperta, quindi analizzando, il report di VPC, Receability, lui capisce, qual è il problema, e ti dà anche la soluzione, in tempo reale, con i vari step, per la risoluzione, piuttosto carino, piuttosto carino, tornando invece al plugin su Code Whisperer, qui a parte tutto quello che ci aspettiamo sulla generazione del codice e sulla spiegazione di che cosa fa un certo codice, ecco, c'è una funzionalità in più che permette di fare la migrazione di una codebase, per esempio, se noi vogliamo aggiornare un'applicazione, magari da una versione di Java all'altra, ecco, c'è l'assistente direttamente alla migrazione, si può chiedere di migrare un'applicazione da una versione all'altra. Ultima cosa che cito, però è piuttosto carina, se voi utilizzate Code Catalyst, che è insomma il software che è online di AWS per gestire il codice, code review, ICD, i ticket, insomma, quello che è attorno alla gestione di un reposito di un'applicazione, ecco, se usate questo tool Code Catalyst via Amazon Q potete fargli direttamente aprire una pull request dentro Code Catalyst, quindi quando potete descrivergli un problema e se lui riesce ad analizzarlo e trovare la soluzione vi fate aprire direttamente una pull request che poi potete analizzare come se fosse stata aperta dal membro di un vostro team e ancora di più va a mira a sostituire il membro del team, ci apre direttamente le pull request, naturalmente non è il primo bot che apre pull request, anche su GitLab, su GitHub ci sono bot che aprono pull request, però queste sono pull request generate direttamente, cioè da una issue si passa direttamente alla pull request che si può poi rivedere e mergiare, già mergiabile. Non male, non male, questo era Amazon Q e c'è un altro articolo che se volete vi consiglio di leggere che approfondisce ancora di più, lo trovate sempre sul blog di AWS, proprio in particolare su Amazon Code Catalyst, quindi se utilizzate Code Catalyst c'è un articolo che va ancora più nel dettaglio su come funziona la creazione di una pull request a partire da una issue, quindi ancora più integrato e direi di chiudere questo momento a Amazon Q con un paio di commenti che trovo su The Verge, sull'articolo che riguarda appunto la presentazione di Q, parla appunto del keynote che il CEO di AWS Adam Selipsky ha tenuto a reinvent e ha risposto a una domanda che potrebbe essere abbastanza importante cioè sul fatto che i propri dati siano al sicuro anche i dati che si vanno a immettere come prompt al chatbot e ha detto che questi di prompt non saranno utilizzati non saranno non diventeranno parte del modello quindi non rientranno nel modello quindi i dati anche quelli che vengono immessi come prompt sono al sicuro e poi Dilip Kumar che è il vice president per le AWS application ha detto che l'integrazione con Amazon Connect è ancora più ad alto livello perché praticamente lui sta in ascolto delle chiamate di un cliente al consenter e poi dà all'operatore tutte le informazioni riguardo proprio all'account che sta chiamando quindi al cliente che sta chiamando così anche le risposte potenziali alle domande che sta facendo il cliente sono già presentate da Connect in un'interfaccia utile all'operatore che è abbastanza impressionante che ci sia un un agente robot in ascolto di una call che poi aiuta l'assistente umano a ritrovare le informazioni da passare al cliente chissà quando invece l'assistente umano sarà completamente tagliato fuori da questo da questo discorso va bene poi si parla invece della security in base all'accesso a certi tipi di informazioni e Selipsky ci ha tenuto a ribadire che se un utente di Q non ha accesso a particolare operazione a particolari documenti anche l'assistente che sta usando non avrà accesso a quegli documenti cioè il sistema di permessi rimane comunque quello degli utenti di AWS rimane quello configurato per gli utenti di AWS quindi basta configurarlo bene e si rimarrà insomma nel perimetro fornito all'utente e l'ultima cosa su Q la trovo perché è interessante su The Register da dove è spuntato Q naturalmente sembra che AWS abbia rincorso i suoi competitor da OpenAI a Google a Microsoft per creare qualcosa in poco tempo da presentare ma in realtà noi sappiamo già per chi ascolta questo podcast è già informato perché AWS ha una partnership con Antropic in un caso sul palco del re-invent con Selipsky c'era il CEO e co-founder di Antropic Dario Amodei quindi erano sul palco insieme poi si fa si ricorda The Register ricorda che Amazon ha investito 4 miliardi di dollari in Antropic a settembre dandogli ancora più infrastruttura cloud ancora più chip per allenare i modelli e il il modello il large language model di Antropic che si chiama Cloud è in tanti dei servizi offerti da AWS quindi pare che l'integrazione tra AWS e Antropic sia molto presente e quindi tutto questo porterebbe a pensare che dietro a Q ci sia proprio Antropic che ci sia proprio Cloud a domanda diretta però di The Register ad Amazon non c'è stata una risposta quindi non sappiamo ufficialmente qual è la tecnologia che sta sotto a Amazon Q noi possiamo solo speculare anche The Register naturalmente è sibillino ci fa prima sapere che c'è questa forte partnership tra AWS e Antropic che poi dice non sappiamo qual è il modello dietro Amazon Q lo possiamo immaginare mettiamola così comunque apparentemente Amoday non era sul palco come partner o fornitore di servizio ma come cliente di AWS è listato così sulla schedule di re-invent e tra l'altro Amoday poi sul palco ha ripetuto un po' come è stata fondata Antropic i founder di Antropic erano persone che lavoravano in OpenAI che hanno lavorato in OpenAI per diversi anni e poi sette di loro ecco sette dei fondatori hanno lasciato OpenAI e poi fondato Antropic questo insomma è quello che sappiamo al momento di Q però scusate ma prima di chiudere definitivamente questo passaggio tra questo segmento questa news che riguarda AWS e i nuovi servizi presentati a re-invent siccome ho trovato ho visto passare anche il nome di NVIDIA sono andato a cercare che cosa centrasse NVIDIA con AWS a parte offrire i propri servizi ebbene pare che la partnership tra AWS e NVIDIA si stia ancora di più rafforzando infatti per esempio c'è questo articolo uscito poco dopo la pubblicazione del keynote di AWS in cui NVIDIA presenta Bionemo che è un modello che fornisce ai ricercatori in campo biomedico appunto un servizio di AI generativa per ricercare nuovi farmaci per mettere a disposizione la ricerca di nuovi farmaci sempre su AWS quindi questo è un servizio presente in AWS e appunto attraverso AWS i ricercatori potranno fare ricerca sui farmaci con appunto Bionemo quindi NVIDIA rafforza la sua presenza su questo segmento particolare cioè dell'AI generativa per la ricerca biomedica aveva già altri servizi sempre su AWS in questo senso ci aggiunge ora Bionemo ma la notizia è ancora più importante adesso andiamo a vederla è che la potenza di calcolo dietro al training dei più grandi dataset di Amazon che sono appunto Titan i foundation model Titan ecco la potenza la fornisce proprio NVIDIA c'è questo blog post apparso anche esso subito dopo sul blog di NVIDIA che dice appunto che tutto quello che c'è in un large language model è grande naturalmente è large e quindi per risolvere questo problema arriva appunto NVIDIA NEMO che è un framework per costruire customizzare e far girare i large language model e un team di scienziati esperti e sviluppatori in AWS in Amazon Web Services hanno creato Amazon Titan quindi i foundation model Titan per Amazon Bedrock come dicevamo prima e questi per essere creati allenati e configurati hanno utilizzato NVIDIA Nemo che è proprio questo framework che vi dicevo quindi NVIDIA ora non solo fornisce la potenza di calcolo cioè nei cluster di AWS che sfruttano le GPU per la AI generativa quelli sono tutti NVIDIA cioè sono powered by NVIDIA non solo questo ma NVIDIA fornisce anche il framework per creare e customizzare e configurare i foundation models questa è la parola più giusta quindi i foundation models di Amazon Bedrock quindi vedete che anche qua la partnership tra questi due big delle AI si va ancora di più consolidando è interessante perché vedete come si sta muovendo come si sta dividendo il mercato da una parte abbiamo Microsoft OpenAI Microsoft si sta creando i propri chip quindi c'è questo polo da questa parte dall'altra parte AWS e NVIDIA poi ci sono ovviamente incroci tra queste non è che vivono nel vuoto NVIDIA fornisce la potenza anche a OpenAI anche a Microsoft AWS si integra con servizi di Microsoft insomma nessuno sta all'interno di un giardino recintato ci sono scambi però a livello di mercati e di accordi si stanno creando dei poli poi è interessante per me quantomeno vedere un po' come si evolverà questa cosa basta la chiudo qua prima di chiudere però una cosa molto veloce un po' spiacevole devo dire si è scoperto qualche giorno fa che Microsoft su GitHub ha bloccato la possibilità di fare ricerca su un repository da non logati cioè se voi oggi andate su GitHub e provate a fare la ricerca dentro un repo nella codebase proprio non nelle issue ma proprio nella codebase le ricerche codebase sono possibili soltanto se siete loggati questo non si sapeva quantomeno è apparso un po' come sorpresa infatti qualcuno l'ha notato e ha fatto presente anche il suo disappunto insomma perché sono repository pubblici repository open source e appunto il concetto di open source è che il codice sia liberamente consultabile fruibile a tutti la possibilità di fare ricerche che è una feature fondamentale e però GitHub non permette di farlo naturalmente GitHub si trincera dietro il problema dei bot quindi il problema di rendere di proteggere gli accessi all'infrastruttura dai bot però non appare molto convincente questa proposta perché è come è possibile che non si riesca con tutta la potenza di Microsoft e GitHub non si riesca a bloccare i bot se non impedendo la ricerca pubblica sui repository ecco questa è un po' la risposta tra l'altro nella risposta dei devrelli di GitHub c'è anche il fatto che questo cambiamento in realtà era già stato reso pubblico e c'è un changelog pubblicato il 7 giugno che già riportava questa notizia insomma quindi è un po' di mesi in realtà che non si può più fare ricerche sul repo evidentemente non ce ne siamo mai accorti oppure chi se ne è accorto non l'ha poi riportato ma insomma è una cosa vedete un po' come vi pare è una notizia da dare e vedremo un po' come si evolverà nei prossimi giorni di sicuro è una cosa che non fa piacere alle community open source insomma ci tenevo a darla anch'io ecco quindi chiudo anche questa puntata a pranzo nel pomeriggio un buongiorno che è un po' un più un buonasera ma comunque spero di aver fatto qualcosa di gradito perché mi sembrava che la grande notizia di Amazon Q meritasse di essere pubblicata oggi quindi insomma quindi insomma ho voluto farlo grazie per avermi seguito grazie anche a chi mi ha seguito stamattina nel mio talk al platform engineering localhost che poi troverete su youtube in qualche modo nei prossimi tempi poi vedremo come quindi ci vediamo non so quando forse domani forse no e basta vi do appuntamento al prossimo buongiornissimo stavolta probabilmente davvero un buongiorno ciao 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 Grazie.